non vi avevo visto bentornati ciao ragazzi sono red e bentornati nella seconda parte di leggo i vostri commenti ovviamente i commenti più interessanti imbecilli stupidi e a volte anche costruttivi poche volte ma ogni tanto sì direi che non c'è bisogno di perderci in altre chiacchiere vi ricordo ovviamente che descrizione trovate il link del monopoli software shop il negozio per cui lavoro e che vi offre attrezzatura da softair e tattica ad ottimi prezzi quindi andatelo a controllare prima di partire con questi incredibili commenti ovviamente sigla ti ho visto sai ti ho visto ti ho visto che non hai messo like al vecchio video non lo sei andato a guardare balla a vedere subito cattivo salve vorrei prendere la glock stupido quest'altro ragazzo scrive salve scusi disturbo volevo sapere riguardo la glock 17c elettrica quanti già al possiede e poi manda la foto di una veretta cima elettrica sono due pistole diverse il buon mauri ci ricorda che sì è divertente scherzare ma certe volte esageriamo ti odio perché hai detto che il milan fa schifo ti chiedo scusa ciao red potete fare una volta un video di questa basta basta questa no ragazzi questa no cioè dai a me si è rotta la pistola da soft fra metti foto alle mie foto così si vede che un boss del software mi segue suista fra se io ti becco per strada ti scasso di botte sto cherzando ovviamente di questi ce ne saranno stati 180 e vi pregherei di indicare i soggetti altrimenti è difficile capire cosa cercate come il buon kt che scrive ciao quanto costa un arma non sono armi sono replica la numero 3 la numero 3 mio signore la numero 3 e a scrive ma che come che fate a girare con che morto il gatto morto potete fare ti consiglierei prima di imparare a scrivere in italiano o adottare una lingua differente perché non ho letteralmente capito perché si è arrabbiato è a gol il red per favore faccio lo spiegaci quali marche devo prendere sarà per favore faccio uscire un video dove ci spieghi quale cosa prendere che ce l'hai detto in questo video ma che marche perché le perché le non poteva mancare uno dei nostri adorati detrattori ottima pistola giochi innocenti per bambini deficienti iscrivetevi ad un poligono di tiro e trovate vere pistole è uno sport vedrete la differenza tra soft air e tiro dinamico è abissale ma sempre utile per capire e difesa abitativa minchia bravi giovani spingetevi più in là con la conoscenze maturate col punto paracadutista fra diavolo folgore di fulgida gloria vigile ascolta nota bene non vi amminchiate crescete siete sulla buona strada reggio emilia bellissima città bella gente sanno vivere ottime emilia romagna modena forever never qualcuno nei commenti mi può scrivere se è felice o no non ho capito il punto ancio o le armi soft air questo me lo voglio tatuare sul petto da che sito possiamo comprarle juve non ti preoccupare non sei l'unico che non ha ancora capito che questo coso che ho intorno è un negozio di soft air non proprietà mia privata quindi tutte le cose che recensisco sono linkate in descrizione lo dico all'inizio alla fine del video ma non vi preoccupate continuare a dirlo finché non morirò che trovate tutto linkato in descrizione e potete acquistarle direttamente dal nostro sito online o venendo in negozio perché siamo al monopoli soft air shop di reggio emilia compreso negozi online quindi potete prendere tutto io ne ho uno e lo tratti di tre anni e l'unica cosa che ho rotto è la levetta di caricamento penso tu abbia rotto anche la grammatica italiana ma hai scout io hai scout qui dentro il buon ti scrive è affidabile prendere una glock su amazon punto di domanda 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 rispondi come on bro bene abbiamo terminato anche l'ultima parte di questo video vi ringrazio di essere arrivati fin qua spero vi abbiano strappato un sorriso anche perché molti di essi facevano veramente ridere vi voglio ricordare che non vi stiamo prendendo in giro vi ricordo inoltre che molti di quelli che ci seguono sono ragazzi giovani che sanno usare il telefono male che non hanno ancora imparato a scrivere quella grammatica o che semplicemente sono distratte e quindi questo genere di cose non sono fatte per prendervi in giro e sminuire ma semplicemente per farci una risata tutti insieme di voi detto ciò io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei nostri canali social anche del mio canale secondario dove anche lì potete trovare altro contenuto e che soprattutto siamo al monopoli software shop di reggio emilia e trovate in descrizione il link del nostro sito online dove potete comprare un sacco di roba super interessante nuovamente io vi ringrazio vi auguro un bellissimo weekend e come al solito stay angry nuovamente io vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringraziovi